Un agguato in pieno giorno che è costato la vita ad un giovane di 20 anni con precedenti penali. Il luogo via Montevergine, nei pressi della centrale via Epomeo, nel quartiere Soccavo di Napoli. Secondo quanto si apprende dalle primissime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato avvicinato per strada dai sicari e colpito con diversi colpi di arma da fuoco. L'evento è avvenuto a pochi passi dalla chiesa locale e da un istituto scolastico. Sul luogo del delitto intervenute le forze dell'ordine, il ventenne la prima vittima di criminalità dell'anno solare in corso. Il delitto è avvenuto alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, presentato qualche minuto prima dell'agguato e dove i vertici della Corte d'Appello Napoletana avevano denunciato l'aumento dei reati, quali omicidi, rapine estese, tra le stati 2015 e 2016, invitando un impegno maggiore delle istituzioni nell'assicurare alla cittadinanza istruzione, occupazione e alternative sociali alla mentalità camorristica.